In cinque anni l'assenteismo dei dipendenti di Cremona Solidale è aumentato da 10.600 giorni l'anno a 13.600, giungendo a una media di 32 giorni annui di assenze a testa. Un fenomeno di massa tra i 404 dipendenti, tuttavia motivato. I dati parlano da soli. 7.200 assenze sono state causate da malattia, il 18% del totale, mentre 1.250 assenze nel 2014 sono causate da un fenomeno particolare. Infermieri e ausiliari di tanto in tanto non possono lavorare al soldi perché devono assistere i loro stessi familiari non autosufficienti, dopo anni di taglia allo stato sociale da parte degli ultimi governi italiani. Si sta a casa dall'ospizio clamorosamente perché costretti a lavorare a casa. Il peggio è che l'età media del personale aumenta. La fascia d'età più rappresentativa è sui 50 anni, ma cresce anche l'età media dei ricoverati, salita 86. Sono pazienti sempre più complicati e la versione dei sindacati confederali, come fa sapere Sabrina Negri della CGL, è che andrebbe rimesso in discussione il modello organizzativo. La Regione prevede 901 minuti di assistenza settimanale per ogni anziano, minuti che però sono pochi e risicati, perché suddivisi tra le varie figure professionali, medici, infermieri, ausiliari, fisioterapisti e così via. È un criterio che quindi non soddisfa le reali esigenze di cura. È un lavoro usurante che espone da un lato a infezioni, dall'altro a sforzi eccessivi, in particolare per le donne ma anche per gli uomini. Dopo decenni i prolungati sforzi fisici trasformano infermieri e ausiliari a loro volta in malati periodici. Situazione paradossale a Cremona, provincia, dove per ogni 100 minorenni da 0 a 14 anni ci sono 221 persone oltre i 65 anni, rispetto a una media nazionale di 151. Città di anziani e pensionati, curati da persone che si avvicinano alla pensione. Cremona solidale però per i sindacati è un caso fra gli altri e c'è il rischio che la riforma regionale della sanità, anche se presenta contenuti apprezzati in teoria, di fatto potrebbe peggiorare i carichi di lavoro. Gli ospedali forse non riusciranno più a reggere il peso dell'assistenza, che ricadrà in parte proprio su Via Brescia, dove la casa di riposo ha investito molto sull'istituto di riabilitazione, che potrebbe chiudere in nome delle cure intermedie. E chi finanzia? Questioni assai delicate e complesse che coinvolgono anche il comune di Cremona. Tra l'altro non manca fra i dipendenti chi aspetta ancora il pagamento di varie ore di straordinari. E i turni sulle 24 ore rendono difficile la vita. Le rette forse aumenteranno dell'1% quest'anno, secondo la programmazione triennale che si chiude. Poi il nuovo CDA, nominato dall'amministrazione Galimberti, dovrà aprire una rinnovata programmazione molto attesa. Il direttore generale Angelo Gipponi scade a sua volta il 30 giugno. Le domande per la selezione pubblica sono già arrivate e con i tempi che corrono, il timore è che arrivi un falco più che una colomba.